Mi aspettavo questo, mi aspetterò il ritorno a 3-3. Mi parlano con forse qualcosa in più. Era un partito con 4-3, con 4-3. Le loro punte erano due terzini. Mi aspettavo, sicuramente mi aspettavo. Una squadra difficile, ancora scorduti, così è stata. Abbiamo avuto tante premesse, abbiamo calciato 3-4 volte. Non siamo mai usciti in Cuba, però siamo di vantaggio meritatamente. E meritatamente abbiamo subito un calcio di rigore. Poi, allora l'hanno dato a me no. Abbiamo avuto due tre palle alla fine. Sul pareggio così, penso una decina di minuti così. Ho preso un po' questo contraccolpo, però poi si è andato a giocare. Anche se qualche giocatore è dovuto uscire perché non ne aveva più. Una cosa è cambiata. E qualcosa forse non è andato più come prima, però anche in questo momento qui. Nel finale abbiamo avuto due palle grandi davanti al quartiere. Una parata e da solo purtroppo. Le occasioni le abbiamo avute. La prima andata credo che adesso sia importante recuperare bene. Abbiamo altri 90 minuti. Possiamo fare bene anche là. Lo abbiamo dimostrato. Bisogna un'altra gara difficile, molto dura. però non saremmo duri anche noi. Ho detto te, magari di rigore, io credo che non c'era. Visto e rivisto. Il nostro, magari potevano darlo anche a noi e saremmo comunque da parlare di 1-2-1. Invece siamo qua parlando di 1-0, di 1-1. Non cambia niente. Come hai detto te. Ci sono quanta minuti. Quello che adesso preme, recuperare, fretta ed essere pronti, che sarà un'altra battaglia, una partita tirata ancora, a stare lì a livello nervoso. Poi, insomma, ripeto, il ritorno è dell'ultimo. Quindi sia per noi che per l'ordine.